Si è temuto il peggio ancora una volta sulla regionale 71 all'altezza di Castelnuovo di Subbiano. Un'auto si è ribaltata nell'impatto con altre due vetture. Sei le persone rimaste ferite e si è temuto soprattutto per la sorte di due bambini comunque rimasti coscienti. Una bambina di quattro anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo per un trauma commotivo e per una ferita alla testa. I genitori di 30 e 32 anni risiedono a Capolona. La piccola dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Un altro bimbo di tre mesi e gli altri feriti e una coppia di coniugi di 65 e 69 anni di Prato Vecchio sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Sul posto le ambulanze e l'automedica del 118 e i vigili del fuoco con un mezzo e cinque unità. Lunghe code nel tardo pomeriggio di domenica si sono formate da e per il Casentino.